Io non posso più coprirti le spalle, ti avevo avvertito, e non posso rischiare di essere cacciato via per incompetenza. Io ho una moglie, due figlie piccole da mantenere, mettiti nei miei panni. Tu sei un cani sciolto John, uno spirito libero, mangiato tu, mangiato tutti, io no cazzo. Molto bene, molto bene, sono assolutamente felice del risultato che abbiamo ottenuto insieme, anche perché Jack Bowman, che è il direttore della rete televisiva che manda in onda lo show di Life, ha avuto quel che si meritava, cioè si meritava Alessandro Valenti, bravo. Sei stato anche molto paziente Ale, perché stare con uno che dall'altra parte ti dice senti, bellissima, bravo, me la rifai per favore? È una volta, è due volte, tre volte, quattro volte, diventa veramente... però tu sei stato paziente perché come me sei uno che cerca l'eccellenza, l'eccellenza l'abbiamo raggiunta insieme. Benvenuto nel cast di Life. Alex, grazie. Grazie mille perché intanto è un onore essere nel cast di Life, insieme a tanti nomi altisonanti del doppiaggio italiano e soprattutto grazie a te per la pazienza e per aver anche oggi insegnato qualcosa a me. Mi hai trasmesso un po' della tua professionalità. È stata un'esperienza fantastica essere diretti da te, è stato meraviglioso. Grazie davvero e alla fine insieme ce l'abbiamo fatta. Audio Movie. La realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film, solamente che le immagini le mettete voi. Insomma, signor Templar, neppure lei si rende conto che di questa conversazione... Perché sono sicura che se sorridi alla vita, lei ti sorride di rimando. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Io vi dissi di amarvi e procrearvi. Con l'Audio Movie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare, attraverso la propria creatività, ciò che sta ascoltando.